...della Colombia, dalla Colombia, René Moschera! René Moschera, Moschera e tutti i capi di partimento della sezione Hotel di Bordo! René Moschera, Moschera e tutti i capi di partimento della sezione Hotel di Bordo! René Moschera René Moschera, Moschera e tutti i capi di partimento della sezione Hotel di Bordo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti